Si è svolto presso il liceo Alfonso Gatto ad Agropoli l'incontro dibattito perché studiare ha un senso. Gli studenti hanno dialogato con Lucia Del Mastro, oncologo di fama internazionale, che fu allieva del liceo Gatto negli anni 1978-1983. Lo scorso 28 ottobre è stata premiata in Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il prestigioso premio biennale Guido Venosta in occasione dell'apertura dei giorni della ricerca di fondazione AIRC. Inoltre durante l'incontro la professoressa ha motivato i ragazzi all'impegno nello studio e dunque nella ricerca della conoscenza quale via per l'affezione nei confronti della vita. Sono stata molto contenta di ritornare nelle aule del liceo che ho frequentato ormai qualche anno fa e sono stata molto contenta perché ho visto che effettivamente i ragazzi erano attenti al discorso che ho fatto e soprattutto l'interazione che c'è stata, le tante domande che mi hanno posto e soprattutto vedere che ci sono alcuni di loro che vogliono seguire questa strada della medicina e dell'oncologia. Abbiamo bisogno di giovani che si dedichino a questo mestiere per l'importanza che il cancro ha nella nostra società. Infatti diciamo che negli ultimi tempi purtroppo questo brutto male, il male del secolo viene chiamato così, si è incrementato. Che cosa è cambiato rispetto agli anni passati dove non sentivamo così tanto parlare di tumori alla mammella, di cancro, insomma. Che cosa è successo, dottoressa? Direi che sono in realtà successe delle cose positive. Non si parlava di tumore perché si aveva paura di parlare di tumore. È vero che c'è un incremento dei tumori che può essere quantizzato, un incremento di circa il 2% annuo, però questo incremento è dovuto soprattutto all'invecchiamento della popolazione. Quindi diciamo con l'invecchiare della popolazione aumenta il rischio di ammalarsi di tumore, però diciamo le novità per il trattamento del tumore sono attualmente talmente importanti e talmente entusiasmanti direi che noi speriamo che nonostante ci sia ancora una certa quota di pazienti che purtroppo muore a causa del cancro, però i grandi progressi che stiamo facendo sono tali per cui noi speriamo nel futuro di poter limitare sempre di più la mortalità legata al cancro. Oggi anche una serie di consigli agli studenti per quanto riguarda la scelta dopo il liceo. Che cosa si sente di dire? Diamo un messaggio ai ragazzi non solo del liceo scientifico ma anche magari a coloro che guarderanno la sua intervista. Sì, ho cercato di spiegare che non bisogna credere che chi ha raggiunto determinati obiettivi ha sempre avuto la sicurezza della scelta. L'insicurezza, il dubbio di scegliere tra una facoltà e un'altra è normale ed è giusto che ci sia una delle caratteristiche delle persone che riflettono è proprio il dubbio e quindi essere in dubbio tra una facoltà e l'altra è normale e quindi volevo rassicurare agli studenti di non essere spaventati se sono in dubbio. Sicuramente faranno la scelta giusta. Un'ultima domanda, oggi è rivisto anche i suoi compagni di classe, ecco come è stata l'emozione di rivederli dopo tanto tempo? È meraviglioso, ovviamente è meraviglioso rivedere i vecchi compagni del liceo, sono tanti i ricordi che vengono a galla ma soprattutto l'affetto, sono venuti qua quindi hanno sottratto tempo alle cose che fanno quotidianamente e questo è il più grande segnale di affetto che possono aver dimostrato nei miei confronti. Siamo con i compagni del liceo della dottoressa Lucia del Mastro che oggi ha onorato la città di Agrovoli, in particolare liceo Alfonso Gatto, quindi gli studenti della sua presenza e a loro chiediamo un po' di notizie, un po' di aneddoti della dottoressa Lucia del Mastro ritornando un po' indietro nel tempo. Buongiorno a tutti, Lucia è stata una compagna di classe esemplare, sempre sorridente, gioiosa, era la più brava, forse neanche la più studiosa ma effettivamente ha avuto sempre una marcia in più, cioè chi non era geloso di lei l'amava perché era così come è adesso, sorridente, solare e soprattutto molto altruista. Io la ricordo sempre che parlava con tutti e chiunque le chiedesse anche le versioni ha sempre avuto il premio. Niente, sono contenta di rivederla, di incontrarla, è un momento molto bello perché chiaramente non ci vediamo da tanti anni, ma soprattutto mi piace la sua umanità perché dietro queste grandi donne che fanno questi percorsi così luminosi c'è sempre un grande cuore per le donne, per gli amici, per la famiglia e per tutti quelli che la conoscono. Chi dire della dottoressa del Mastro di Lucia? Croia De Tantonella ha rispecchiato perfettamente la persona di Lucia. È vero, eravamo una classe unita, noi avevamo pochi maschietti, l'immaginanza delle donne che dominavano in tutto e per tutto, però Lucia aveva una marcia in più, ha una marcia in più rispetto a noi e la vita l'ha dimostrato, la sua professione l'ha dimostrata, una persona solare, aperta. Dare merito anche ai professori, voglio ricordare i professori che venivano dal liceo classico, persone eccezionali iniziando dal preside Cilendo, dal professore Di Paolo, dal professore Cianfrone, che ci hanno dato quella marcia in più e che ci hanno fatto crescere e poi abbiamo... Lucia è una scienziata, è uno scienziato. Io gli auguro le migliori fortune perché i suoi successi professionali sono i nostri successi professionali, questa è una certezza e io sono onorato e sono commosso di aver avuto questa fortuna, Lucia davvero è una persona, così come gli altri amici che voglio ricordare, quelli che purtroppo ci hanno lasciato e quelli che ci sono ancora, che ancora ci sentiamo, ci vediamo ed è un bel ricordo che portiamo nel cuore e porto nel cuore. Io devo dire solo una cosa, io conosco Lucia dall'età di 11 anni, quindi abbiamo fatto scuole medie, stesso banco, scuole superiori, quindi liceo stesso banco, università, stessa casa, stesso appartamento, quindi abbiamo condiviso tutto. Quindi per me al di là dell'essere scienziata, per me prima è amica e anche madrina di Cresima. Per me è una persona speciale con cui ho condiviso tutto e anche se stiamo lontani, non ci vediamo, non ci sentiamo spesso, ma io so che c'è. Questo è una cosa per me molto importante perché è un rapporto che è tra me e lei e quindi non si può descrivere quello che c'è stato e quello che c'è e quello che spero ci sarà sempre. Quando uno è ragazzo e va a scuola non immagina quello che poi sarà il futuro e quindi io chiaramente come tutto il resto della classe è la stessa Lucia, non immaginavamo quello che sarebbe successo, quindi è qualcosa di sorprendente quello che è riuscito a fare Lucia del Mastro e quindi pensare al percorso che è riuscito a compiere è rincuorante perché dice allora qualcosina magari è possibile che riusciamo a farlo anche noi altri e quindi io mi auguro che questa testimonianza di oggi sia di aiuto per i ragazzi come la presenza di Lucia è stata già di aiuto per noi tanto tempo fa perché quello che accadde allora fu di avere la grazia di una compagnia di amici per me che sono tutti ragazzi della classe di allora dal 78 all'83, Lucia compresa. Lucia si distingueva per alcuni tratti però poi io ho avuto la grazia di essere una classe bellissima e come diceva anche Massimo Farro una classe guidata anche da ottimi docenti e questo è il mio ricordo